Una giornata importante, quella di oggi, al Palazzo del Quirinale. Il Presidente Mattarella ha presentato un tema forte, le donne della Shoah. E non a caso, in modo intuitivo, l'Avvocato Sotira, con il suo salotto giuridico letterario, ha deciso di presentare un libro importante, proprio sulla scia di questo solcossegnato dal Presidente Mattarella, questa mattina al Quirinale. Allora, Titi, parliamo di questo libro, senza dire troppo, naturalmente, perché poi i media diffondono oltremodo e amplificano quello che viene detto. Quindi lasciamo invece un po' di mistero. Però qualche linea importante per non dimenticare. Sì, dunque, diciamo che io ho sempre considerato l'azione di cominciare a scrivere un libro come un ripescaggio nella valigia della memoria, così la chiamo, in cui ho accumulato in tutta la mia vita vari tasselli che al momento di cominciare un libro raccolgo. Ora, qui c'erano due tasselli fondamentali che hanno dato poi origine alla mia storia. Una era la storia di una mia carissima amica, Claudia Bienemè, che aveva vissuto il dramma della separazione, la sua nipotina Benedetta, quindi la protagonista, la piccola protagonista del mio romanzo, esiste davvero, le era stata portata via improvvisamente dalla madre, peraltro, e quindi lei mi aveva chiesto proprio di raccontare il dramma di una separazione improvvisa. Questo era uno dei tasselli che volevo assolutamente usare e poi ce n'era un altro che era più personale, apparteneva proprio alla mia vita. Io seguivo la mia mamma, che dunque il libro è stato pubblicato nel 2014, mia madre è morta nel dicembre del 2013 e io volevo raccontare di un'altra separazione che mi preparavo ad affrontare, una separazione che in quel caso è irreversibile, almeno finché dura la vita, sulla terra. E quindi da questa doppia separazione ho partorito l'idea di questa storia, quindi una storia centrata sicuramente sull'amore immenso di una madre multipla, di una madre al cubo, perché poi la mia protagonista è madre, ma è nonna ed è anche elevatrice, e ho trovato nel momento in cui c'è la separazione un'altra madre multipla che è Irena Sandler. Mi sono imbattuta per caso nella sua storia e una grande storia di amore, di amore materno che prescinde poi dal legame biologico assolutamente e a quel punto sono nate le mie madri. È tutto bellissimo e questo ci fa riflettere tanto su quello che è l'importanza di non essere indifferenti, di non girarsi dall'altra parte, di non voltarsi. Sempre facendo riferimento oggi a quello che è avvenuto al Quirinale e che abbiamo cercato in qualche modo come giornalisti di documentare, un evidente richiamo del Presidente Mattarella è proprio stato quello di cercare tutti quanti insieme di non voltarci mai dall'altra parte, qualunque sia la cosa che vediamo. Ecco, c'è un pericolo in differenza secondo lei oggi? Assolutamente sì. Io sono insegnante, sono madre e purtroppo riscontro quotidianamente che le generazioni di oggi sono sempre più distaccate da quello che è invece questo passato così importante perché potrebbe aiutarci a costruire sicuramente un futuro migliore. Siamo troppo concentrati, oggi i giovani sono troppo concentrati sul momento come diceva prima il relatore sull'attualità e si perde il valore del passato anzi della memoria che come dicevano poc'anzi è in realtà un valore importante da portare verso il futuro. Come scuola, come corpo insegnante qui così chiudiamo già ha delineato che cosa si può fare ma c'è qualcosa che determinerebbe la svolta cioè che potrebbe fare molto di più magari che so, anche un maggiore collante tra le famiglie e la scuola Sì, assolutamente però dovrebbe cambiare innanzitutto questo atteggiamento di chiusura nei confronti proprio e di protezione anche nei confronti dei genitori perché in questo momento insegnanti e genitori non collaborano naturalmente ogni caso è a sé però in linea di massima c'è proprio un atteggiamento di protezione un po' parossistico un po' esasperato nei confronti ma io stessa come madre poi mi ritrovo così tendiamo noi genitori a proteggere estremamente i nostri figli e a tutelarli e a nascondere loro anche magari certi aspetti della vita che comunque inevitabilmente prima o poi si troveranno ad affrontare dovremo forse essere più coraggiosi noi come genitori e lasciarli più liberi di scoprire quello che è per prepararli al futuro perché poi la vita non fa sconti a nessuno in realtà e noi liberi di scoprire invece questo meraviglioso libro grazie grazie mille